ristorante giapponese prezzi e questi qua ancora ha chiuso ma stasera faremo la cena qui 19 15 e saremo primi il tempo caldo caldissimo oggi piante si stanno aprendo fra poco primavera amici buonasera a tutti sono molto contenta che voi siete qui con noi non siamo al ristorante giapponese a mi piace tantissimo andiamo a mangiare andiamo a vedere che cosa si può mangiare qua vediamo a dopo sopra per assaggiare questi anni lì c'è risotto assaggiamo anche alghe giapponese buoni assaggi questo qua assaggi vediamo poi buono è buono sì invece per la prima volta tonno crudo mi fa un po' impressione anche alge buone io non giugio oggio assaggi un tucco be Saldo! Salta di soia non è salata per niente, la salsa di soia è buona, non è salata, non Questo è senza sale per niente, grazie. Questo è funghi. Ora voglio assaggiare anche funghi. Funghi giapponesi. Si devono mangiare con soia o senza soia? E che funghi è? Il funghi si sente parecchio. Funghi, funghi come funghi. Assaggio questa verdura. Funghi, funghi. 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 Buonissimo, io sono drogata di questa cucina giapponese. Ma tanto, tanto. Funghi, funghi. Grazie a tutti. La cucina giapponese fa perdere la testa, proprio fa perdere la testa, mamma mia, come tutto buono, non potete immaginare, è tutti piatti straordinari, nemmeno uno, nemmeno uno non c'è che non mi è piaciuto, è proprio al massimo, tutto al massimo. Un po' di acqua, acqua 2 euro costa, birra 5 euro, c'è qualche birra anche 3,50. Caffè 2 euro, no, caffè 1 euro e 50. Con questo vi saluto amici, arrivederci e buona serata a tutti voi. Amici, cucina giapponese fa perdere la testa, veramente, ma non sempre si mangia buono quando si va a mangiare soltanto una volta alla settimana, no, una volta al mese, scusate. Non ce la faccio andare né domani né dopodomani perché abbiamo mangiato troppo. E basta, ora basta per una settimana, no, una settimana, un mese, mamma mia, che buona questa. Grazie, rivederci. Amici, siamo molto emozionati, siamo stati a questo ristorante, tutto buono, guardate, tutto, tutto buono. Io mai visto così perché abbiamo frequentato tanti, da noi tanti chiusi, questo nuovo aperto da poco. Dobbiamo ritornare, fra un mese, fra un mese si ritorna. Viva Giappone che fa perdere la testa, proprio. Io non lo so, c'è gente che non piace giapponese. Penso di no, che piace a tutti perché proprio, poi non è salato, è tutto buono, tutto, tutto buono. Vi saluto, siamo stati molto, molto bene. Ciao amici. Ciao. Ciao. Ciao.